Ben trovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, giornata di martedì con ancora questo vortice mediterraneo insidioso tra il Nord Africa e l'Oionio, responsabile di piogge su parte del centro-sud. Maggiore anticiclone invece sugli stati alpini ed il nord Italia. Andiamo al dettaglio quindi per quanto riguarda la nuvolosità, nubi medio-alte interessare il medio-adriatico e Friuli-Venezia-Giulia, mentre una certa nuvolosità irregolare insisterà anche al sud con nubi però qui torreggianti temporaleschi. Andiamo a vedere nel dettaglio di fatti la mappa delle precipitazioni, ancora dei rovesci che bagneranno molti settori del vessante ionico tra Sicilia, Calabria, Basilicata, ma qualche pioggia attesa anche sul medio-basso adriatico. I fenomeni più intensi però saranno proprio tra queste tre regioni, la Basilicata, la Calabria e appunto la Sicilia, perché il vortice depressionario sarà molto vicino, posizionato tra la Libia e il Mar Ionio. Nel dettaglio possiamo osservare quindi una giornata con nubi irregolari sul medio-basso adriatico al sud, fenomeni più incisivi appunto sul versante ionico, venti ancora vivaci qui. Mentre sulla Toscana, la Sardegna e le regioni settentrionali maggiori spazi soleggiati in un contesto quindi di stabilità, di regime anticiclonico. Dettagli maggiori li trovate però scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.